Lanciano capolista, Crotone quarto a tre punti di distacco. Sabato all'uscida si affronteranno le due squadre del momento nonché rivelazioni del campionato. La Virtus unica imbattuta con la migliore difesa appena quattro le reti incassate proverà a rimanere ancora in vetta. La squadra calabrese attacco tra i più prolifici con 15 gol ma difesa con la Brodo con 13 reti al passivo tenterà l'aggancio. Insomma partita da tripla affidata al fischietto di Foggia Diego Roca. Il tecnico rossonero Marco Baroni la inquadra così. Dobbiamo andare a giocare contro una squadra che come noi non era stata messa nei pronostici tra le squadre più importanti che sta facendo un bel calcio. Un calcio di giovani, di corsa, di determinazione. Se mi dici temi più il Crotone di qualche nobile ti dico di sì. Ecco, questo è così e in questo momento è quello che mi viene da pensare. Noi affrontiamo gara in gara perché vogliamo misurarci. Non vediamo l'ora di misurarci contro anche queste squadre importanti. Adesso tocca al Crotone che sarà una partita veramente molto difficile.